Allora, grazie, grazie a tutti di essere qua, innanzitutto e buonasera. Io da quando ho memoria culturale, diciamo così, dai tempi dell'università che ormai affondano gli anni 90, Pasolini è sempre stato un tema ricorrente. Forse il primo evento, la prima polemica che ricordo è la polemica legata al libro di Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino, che era appunto fino anni 90. Per dire due episodi minimi che mi sono capitati proprio nei giorni scorsi, per dire come Pasolini sia una figura ricorrente, pervasiva, forse infestante o forse, come dire, fertilizzante discorso culturale italiano. Casualmente, due giorni fa, parlando con una persona, docente universitario, eccetera, parlando di tutt'altro, parlando del design anni 60-70 italiano, mi diceva, perché i grandi designer italiani, i mari, i vinielli, eccetera, sono stati grandi intellettuali italiani che avevano un'idea di cultura che arrivava a tutti contrapposta all'idea apocalittica di Pasolini. Oppure, un altro episodio che mi è accaduto, che è accaduto a tutti, se voi vedete il Padiglione Italia della Biennale di Venezia, di un artista che si chiama Giampaolo Tosatti, se non sbaglio, è un discorso sull'antropocene, sull'impatto dell'industrializzazione sul pianeta, ma lui stesso lo dice presentando l'opera, a partire da Pasolini. Quindi Pasolini è veramente, credo chiunque di noi può tirare fuori altre mille episodi, così in cui Pasolini torna, no? Come argomento, come termine, come, direi, come funzione. Quest'anno poi cade il centenario della sua nascita, quindi sono fiorite le pubblicazioni, i libri, i ricordi su Pasolini. Devo dire però, oggi parliamo del libro di Marco Belpoliti, Pasolini e il suo doppio, e come tutti i libri di Marco riesce a smarcarsi dal discorso maggioritario su un soggetto, riesce a, anche quando il soggetto è così ingombrante, come appunto è Pasolini, riesce a prenderlo di lato, no? Ad affrontarlo per una via che è impensata, oppure non così scontata, una via di accesso che poi quando ce la presenta, con la capacità anche comunicativa che lo contraddistingue, diciamo, cavolo, ecco, non avevo mai vista questa cosa, non avevo mai visto questo argomento, non avevo mai visto questo autore in questa luce. E Pasolini e il suo doppio fa esattamente questo, Pasolini e il suo doppio che è la testimonianza, diciamo, di una lunga fedeltà di Marco con Pasolini, ma anche, o forse direi, soprattutto con qualcos'altro legato a Pasolini che è la sua immagine, perché questo libro è un libro su Pasolini, è un libro doppio in un certo senso, come è il suo tema e il suo argomento, perché è un libro su Pasolini, sul Pasolini storico, ma anche sul Pasolini funzione, cioè sul Pasolini il suo ruolo nel discorso pubblico ancora attuale, ma è anche un discorso sui fotografi di Pasolini, sull'immagine di Pasolini, su Pasolini ritratto, su Pasolini icona. Tra il serio e il faceto, pensavo in questi giorni, proprio perché un paio di settimane fa abbiamo presentato qua, abbiamo fatto un evento dedicato a Joan Didion, che Pasolini è un po' la Joan Didion italiana. Joan Didion è questa grande scrittrice americana morta a Natale dell'anno scorso, che è anche caratterizzata da essere stata una bellissima donna, ma anche quando è stata poi molto anziana, è stata fotografata mille volte, è stata usata nelle pubblicità di moda, dei marchi di moda, come proprio quasi fosse una modella, anche quando era ormai settantenne, ottantenne, è stata una delle scrittrici più fotografate, più glamour, più iconiche, come si dice adesso, della narrativa della letteratura americana. E forse Pasolini è stata un po' la nostra Joan Didion, se vogliamo fare questo paragone nel senso, è stato forse lo scrittore italiano più fotografato, più rappresentato, quello di cui, se voi andate al Pigneto, a Roma, vedete un murales, che lo ritrae, quasi fosse un Capitano America o De Noartre, diciamo così, è diventato quasi un personaggio del fumetto, ma appunto è stato fotografato soprattutto da tanti grandi fotografi che in qualche modo ne hanno fatto un ritratto fisicamente, nel senso ne hanno fatto delle fotografie, ma ne hanno anche fatto un ritratto come personaggio, come figura storica. E quindi la prima domanda, il primo spunto, diciamo, che darei a Marco è come mai hai pensato e deciso di raccogliere in questo libro i tanti scritti che hai dedicato a Pasolini fotografato, Pasolini soggetto, soggetto nel senso di oggetto della fotografia, e in generale del rapporto tra Pasolini e la sua immagine. Buonasera, grazie Francesco per questa introduzione. Allora, Pasolini è un'icona, c'è solo un altro personaggio che è così iconico, ma che è più vicino di lui, ancora più vicino di lui all'arte, cioè Andy Waller, che è un produttore di icone. A suo modo anche Pasolini produce dell'icone, ma l'icona fondamentale di Pasolini è lui stesso, a differenza, cioè anche Waller, però insomma, uno pensa a Waller, sì, lo vede, insomma, con questi capelli, più giovane, più anziano, i capelli bianchi, la parrucca e tutto, eccetera, però poi ha in mente i ritratti che lui faceva, dei grandi personaggi del G7. Allora, il problema di Pasolini è perché è un'icona. Sono un po', diciamo così, icastico, vado un po' per le spicce. Allora, è un'icona perché è un diverso. Allora, la parola diverso può essere declinata in vari modi. Abbiamo cominciato una serie di conferenze a Roma, fatte da doppio zero, che spero poi diventeranno dei podcast, sono 20 incontri che durano un anno. Io ho fatto il primo incontro su Pasolini Corsaro, che era una biblioteca affollata, soprattutto di giovani, e poi dopo ci sono stati degli interventi. Uno di questi interventi era un ragazzo che aveva 19-20 anni e che ha espresso in modo efficace l'idea del Pasolini-icona, icona della diversità. Cioè Pasolini è contro. Contro che cosa? Contro tutto. Contro il sistema, contro la letteratura, contro le classi dirigenti, contro il, diciamo, il capitalismo. Cioè viene visto come un personaggio contro. Il che è solo in parte vero, perché come sempre, come sempre, e la stessa cosa vale per Waller, diciamo, le icone contro sono anche icone a favore. Cioè sono icone che stanno dentro e fuori dal sistema. Perché se uno stesse davvero fuori dal sistema, sarebbe completamente al di là di tutto questo. Cioè il fatto che Pasolini abbia, si sia fatto fotografare. C'erano molti autoautori, no? Che potevano mettere dentro, insomma. Poi lì c'era un problema di diritti, di soldi, di chiedere dei permessi. Infatti c'è un fotografo che non mi ha dato il permesso di mettere le sue fotografie Paolo di Paolo. Però Pasolini non solo ha accettato di farsi fotografare, ma a un certo punto ha chiamato Paolo di Paolo quando stava per cominciare a diventare un regista. Cioè della prima ha chiamato un fotografo, l'ha portato al Monte dei Cocci, che è questo luogo di Roma, diciamo, pasoliniano. Una volta era anche un posto malfamato, dove abitavano, diciamo, un po' i baraccati in una certa misura in queste strutture. E si è fatto fare un servizio apposta. Tu, scusami se ti interrompo, tu lo racconti molto bene. Loro, Paolo di Paolo e Pasolini, erano stati messi insieme, diciamo, per cosa? Sì, sono stati messi insieme per fare un servizio fotografico del primo reportage che Pasolini ha fatto, che ha anticipato poi quello che hanno fatto tanti altri giornalisti o scrittori. Cioè ha fatto il giro delle spiagge italiane raccontando il boom, no? Si chiamava La lunga strada di sabbia. E sono partiti insieme lui e Paolo di Paolo. Paolo di Paolo, che adesso ha più di 90 anni, che è stato, diciamo, incoronato come fotografo, era il fotografo del mondo. Quindi è stato un fotografo molto importante di quella epoca, diciamo, che coincide con la dolce vita e quant'altro. Sono partiti insieme con la macchina Spyder, una MG di Paolo di Paolo. Sono arrivati al primo appuntamento, al secondo Paolo Zilini l'ha salutato perché aveva i ragazzi, cercava i ragazzi in quella località. Si vede una cena nell'albergo, mi dico, ma dopo cena ci dividiamo, non se state si dividono. Sì, mi dice, a te ti piaceranno le donne, io ho altri gusti, e subito incontra questi ragazzi. E i ragazzi, ancora, i ragazzi di oggi, pensano sempre a Pasolini nei termini di questa icona contro. Allora, diverso, e qui tiro in ballo subito, vado un po' velocemente, tiro in ballo il problema dell'omosessualità. Allora, il problema dell'omosessualità di Pasolini è uno dei grandi problemi rimossi, perché tutti sanno benissimo che è omosessuale, ma quasi mai, tranne quel simpatico provocatore che è Alberto Arbasino, che l'ha spiegato in più di un'intervista e anche l'ha scritto nei suoi libri, la sessualità di Pasolini va verso i ragazzi, cioè è attratto dai ragazzi. Cioè dal proprio seggio vanile è una forma di narcisismo, come aveva capito benissimo il grande critico Contini, Gianfranco Contini. Il mio libro comincia da lì, dal fatto che nel 1943 Contini aveva capito benissimo non tanto e non solo l'omosessualità, ma qual era il fulcro centrale di tutta, diciamo così, l'ideologia letteraria e umana che sono identificate completamente in Pasolini, cioè il tema del narcisismo. Sono le due figure delle sue poesie friulane dove c'è il Cristo in croce, che è una figura erotica per Pasolini, e c'è Narciso. Quindi l'omosessualità di Pasolini, adesso dico la parola che nel libro non c'è, è quella che oggi chiameremo pedofilia. Pasolini era legato al suo grande amore che è Ninetto Davoli. Ninetto Davoli stava con Pasolini quando aveva meno di 16 anni. C'è una lettera a Laura Betti in cui Pasolini dice sono qui con Ninetto al festival di Venezia e parla di, insomma, Ninetto scopre questo mondo, non aveva mai visto la neve che cadeva, non aveva mai visto il mondo del cinema, eccetera, eccetera. E c'è la data, con la data si capisce che ha meno di 16 anni. Ninetto Davoli nella nuova edizione delle lettere, come si è accorto qualcuno, l'ha fatta togliere. L'ha fatta togliere. Quindi c'è questo scandalo, ma questo scandalo è uno scandalo relativo forse solo agli adulti, perché in effetti Pasolini, l'essere contro, è un essere contro totale. Contro che cosa? Non è solo un elemento etico, è un elemento estetico. Cioè, il grande dolore di Pasolini finale era che era cambiato questo mondo dove i ragazzi che lui desiderava, è una frase che scrive negli scritti corsari, in un saggio, diciamo, la recensione di un saggio sull'omosessualità, dove ci sono due omosessuali che vivono insieme, che raccontano la loro idea di omosessualità. E Pasolini dice, io desidero, come omosessuale, fare l'amore con un ragazzo eterosessuale che mi accetta come tale. Questa cosa, diciamo, Pasolini era legato ai radicali, era legato al Partito Comunista, c'era un conflitto col PC, ma insomma, l'hanno espulso dal Partito Comunista e questo, l'inizio del libro, racconta questa storia come è accaduta. Sono andato a vedere gli atti giudiziari e ho cercato di capire come era successo. Adesso non sto qui a raccontare, ma insomma, il centro di questa cosa è il fatto che la radice omosessuale o di pedofilia, chiamiamola così, di Pasolini è la radice centrale della sua posizione di conflitto con il mondo. Ed è una radice centrale anche dal punto di vista letterario, come Contini ha capito nel 1943 recensendo queste poesie scritte in friulano. Questo è il punto diciamo di partenza e il tema dell'immagine ovviamente, l'immagine di sé, Narciso, lo specchio, l'elemento speculare è molto presente in Pasolini. Naturalmente non c'è solo questo in Pasolini. C'è anche dal punto di vista umano un uomo molto affettuoso, molto gentile come Dacia Maraini ha raccontato nel suo libro, molto attento con gli amici, tutti questi aspetti che sono abbastanza complessi. C'è una dualità, una doppiezza, un doppio, ecco, abbastanza... Questo è però un tema continuamente rimosso, diciamo, non viene affrontato perché è un tema che contiene un elemento di scandalo e Pasolini è scandaloso. Pasolini fa i tre film The Cameron, il Canterbury, Le Mille e una Notte che è l'esplosione del sesso, no? Poi dopo dice ho sbagliato tutto, no? ritrae, fa una critica del paese e poi dopo fa Salò, ecco, che sono due polarità completamente opposte dove il sesso è sadismo, masochismo, sofferenza, fascismo, insomma, io non so quanti di voi hanno visto Salò, io ogni tanto mi capita di rivederlo anche di farlo vedere agli studenti, quindi all'università stanno zitti e non dicono una sola parola per tutto il corso del film, si alzano, io cerco di animare un po' di discussione facendo il corso su Pasolini e vanno via, e vanno via, perché è un film che è anche inguardabile oggi, ecco, quindi esiste questo problema, diciamo così, adesso l'ho buttato lì forse troppe cose messe insieme, però insomma questo elemento dell'icona è un elemento che ha tante facce, ecco, la faccia che riguarda la radice ultima, insomma, che è la cosa su cui io insisto da tempo, ecco, che poi comprende il problema dell'uccisione di Pasolini, del complotto politico a cui non credo per nulla, anzi io sono convinto che le cose sono come nella lettera rubata di Po, sono sempre in vista e che siamo noi che non le vogliamo vedere e comunque diciamo c'è tutta una parte del mondo di sinistra quando io ho scritto anche sulla stampa queste cose che compreso un famoso regista che lavora anche qui a Torino a cui voglio anche bene che ha scritto scandalizzato dicendo ma come una persona di sinistra come Marco Belpoliti scrive queste cose l'hanno ucciso perché sapeva la verità sulle stragi e io ho detto è un delitto sessuale come aveva detto suo cugino Nico Naldini che sapeva benissimo omosessuale anche lui che è stato l'uomo con cui è stato in relazione affettiva e parentale per tutta la vita ecco c'è una grande rimozione però a me non interessa andare col dito a dire vi dimenticate di questo a me interessa capire Pasolini ecco questo libro ha questo tentativo dopodiché lo scandalo io non sono un uomo scandaloso non mi interessa lo scandalo mi interessa più la comprensione delle questioni ecco non so se ho chiarito un po' benissimo apro a caso il tuo libro e mi cadono gli occhi su questa citazione dalle cenere di Gramsci che cade a fagiolo perché parla proprio di questo lo scand è una poesia di Pasolini che dice recita così lo scandalo di contraddirmi dell'essere con te e contro di te con te nel cuore in luce contro di te nelle buie viscere anche 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 qua c'è proprio la sua doppiezza la sua doppiezza in senso positivo ma lui l'ha esibita sempre l'ha mostrata cioè c'è una cosa di cui non possiamo accusare Pasolini di essere un ipocrita di nascondersi Pasolini era un uomo di una sincerità persino esagerata però questo conflitto lo portava dentro di sé ecco leggendo con calma insomma le lettere ci sono delle lettere meravigliose soprattutto agli amici degli anni universitari le confidenze che lui fa a un certo punto perché dice a questi amici io sono omosessuale questa omosessualità è un problema sono commoventi cioè Pasolini ha qualcosa di unico nel senso che non è tanto la verità come si dice che lui cerca la verità è più la sincerità che è un altro problema anche questo abbastanza complesso perché essere sinceri è una delle cose più difficili ecco lui è sincero nel conflitto ecco c'ha la sincerità del conflitto e non gli si può rimproverare nulla non gli si può rimproverare nulla e forse questo è la cosa che seduce perché diciamo lo scandalo ha sempre due facce in realtà come quel ragazzo di 19 anni che manifestava la sua ammirazione alla fine di questa conferenza dove io ho provato a ricostruire tutto questo percorso leggendo gli scritti corsari facendo vedere diciamo le contraddizioni di Pasolini ha amato questo scandalo questo ragazzo per me che cosa è uno che non si arrende che non accetta diciamo il sistema con la S maiuscola che nell'adolescenza è il conflitto dei conflitti cioè che vuol dire la famiglia lo stato la scuola i professori anche se stessi anche se stessi cioè perché l'adolescenza è il luogo del conflitto ecco Pasolini è rimasto uno straordinario adolescente sempre anche quando ha cominciato invecchiare ma mi ricollego a ciò che dici vorrei parlare più in là ma effettivamente si collega a ciò che dici prima citavo Calvino questa contraposizione fra lui fra Pasolini e Calvino appunto non so se poi nella nell'uso che ne fa Carla Benedetti che ne faceva Carla Benedetti all'epoca sia ancora valida però di fatto storicamente Calvino è stato uno dei suoi interlocutori principali prediletti è stato anche quello che editorialmente l'ha seguito molto l'ha aiutato eccetera anche tu ricordi negli anni 70 ci furono 70 se non sbaglio uno scambio di polemiche una polemica fra di loro uno scambio di opinioni sul Corriere della Sera sulle colonne del Corriere che partivano dai temi dell'attualità dell'epoca in particolare sull'aborto sul referendum sull'aborto eccetera ma che nella loro dialettica fra Pasolini e Calvino si allargano a avere proprie visioni del mondo e in qualche modo se non sbaglio appunto Pasolini rinfaccia a Calvino un'aderenza un'adesione all'ideale dell'illuminismo che secondo Pasolini erano coerenti e complici diciamo di questa cultura consumista e capitalista che secondo lui stava corrompendo l'Italia il libro andrebbe scritto andrebbe scritto davvero un libro sul loro rapporto adesso ci sono anche le lettere ma insomma sono uscite tante cose allora Calvino come dice il suo cognome è un calvinista c'è poco da fare cioè ha questo atteggiamento Calvino ha un altro atteggiamento che è esattamente l'opposto di quello di Pasolini per lui c'è il pathos della distanza è la distanza quella che conta è la distanza che permette la prospettiva quindi vuol dire che non poteva fare come Pasolini gettare il proprio corpo nella lotta como i lottatori quando lottano sono un corpo solo non sono due sono avvinchiati Calvino teneva le distanze teneva sempre le distanze basta se voi andate a vedere le sue interviste su youtube dove persino balbetta un po' Calvino aveva bisogno di scrivere addirittura a Calvino ci sono dei passi in cui dice parla male della parola e c'è la parola la saliva è qualcosa di sporco Calvino aveva bisogno di chiarire le questioni le cose questo però non ha tolto il fatto che fino a un certo punto poi c'è un punto in cui si rompe questo rapporto ed è intorno sostanzialmente all'aborto e anche questo per esempio è una cosa il fatto che Pasolini fosse contro l'aborto e ne scrivesse sul Corriere della Sera che allora ha causato un grande conflitto anche Moravia che era l'amico del cuore gli ha risposto per le rime sul medesimo sul medesimo giornale però lì si rompe una cosa si rompe un rapporto allora Calvino l'ha sostenuto soprattutto nel mondo comunista che non aveva capito quanto fosse le ceneri di Gramsci lui scrive al mi sembra che sia al contemporaneo dicendo guardate questo è il libro di poesia più importante tra i più importanti di questo secolo siamo negli anni 60 dovete recensirlo e gli fa di fatto lui una recensione lo stima enormemente Pasolini poi dall'altro lato scrive una delle cose più belle sulle città invisibili di Calvino che siamo nel 71 quindi è prima dalla rottura che avviene dopo il 71 e dice delle cose molto importanti su Calvino ed è uno di quelli che lo capiscono che capiscono Calvino capiscono anche questo patros della distanza perché come spesso succede ci si capisce tra opposti non si può vivere insieme tra opposti si può stare distanti e ci si può capire attraverso il rovescio l'opposto poi succede la faccenda dell'aborto e lì c'è un problema che è legato al grande legame insomma è la copertina di questo libro il grande legame che Pasolini ha con la madre scusami è anche una valenza del doppio del titolo perché quando vedo questa immagine una bellissima fotografia di Mario Dondero vedo appunto Pasolini e dietro la madre tra l'altro che le assomiglia uguali sono uguali sembra lui con la parrucca è proprio il suo doppio quasi alla Hitchcock alla Psycho può sembrare una psicanalisi un po' così da cazzo però effettivamente anche questo l'epistolario che adesso hanno pubblicato che contiene 300 lettere in più le lettere alla madre che io poi ho pilucato qua e là sono incredibili come si rivolge a lei si rivolge a lei come una bambina a volte da adulto e a volte fa anche il bambino lui c'è proprio un rapporto incredibile poi io su questo non entro nel merito insomma uno dice ma l'omosessualità nasce dal fatto che questo rapporto con la madre come diceva Freud ma non è questo il problema il problema è che effettivamente in Pasolini c'è qualcosa di unico lui dice io mi ricordo di quando ero nel ventre di mia madre in queste acque riprende un libro di uno psicanalista straordinario che si chiama Ferenzi poco noto che ha scritto Zalassa che è questo libro sull'acqua che è un libro incredibile è un libro di uno scrittore fantastico fantasioso ecco e quindi si rivolge a Calvino dicendo tu non hai capito niente cosa dice Calvino Calvino dice non si diventa umani nascendo si diventa umani si diventa uomini non solo perché si è un feto ma perché si nasce e sono gli altri la relazione con gli altri cioè la società Calvino in questo senso è un comunista o comunque uno che ha il senso della società come stare insieme con gli altri adesso la frase è anche molto bella non la ricordo perfettamente ma insomma e lì c'è il conflitto e Pasolini alza la posta e scrive una cosa bellissima che lì ho trascritto che è uno dei testi secondo me più straordinari io provo a riassumere le sue parole sono molto più belle dice noi siamo cresciuti nel fascismo e contro il fascismo non avevamo che è da mettergli contro l'aspetto illuminista razionale per contrapporci alla merda scrive proprio così alla merda del fascismo la razionalità l'illuminismo però lui dice a questo punto per me non basta più questa cosa non basta più è un discorso che poi non ha potuto approfondire perché è morto poco dopo è una delle ultime lettere dirette e dice Calvino è la persona con cui io voglio parlare perché l'interlocutore intanto ne capisce la grandezza dello scrittore ne capisce l'importanza nel sistema letterario e culturale italiano e ne ha apprezzato l'amicizia e il sostegno pur con le perplessità che Calvino poteva avere Calvino a un certo punto scrive delle lettere dicendo basta di fare il cinema Calvino che è nato come un amante del cinema a un certo punto dice no no basta col cinema gli dice così non so ce l'hai trovato ho trovato appunto il passaggio di questi editoriali e Pasolini scrive Calvino parlando appunto a Calvino in terza persona Calvino proviene da una formazione e come ormai si può dire da un'intera vita passata sotto regimi tradizionalmente critico fascisti quando erano entrambi adolescenti c'era il fascismo poi è seguita la democrazia cristiana che del fascismo nella loro visione è stata la continuazione dunque era giunto questo di nuovo Pasolini dunque era giusto che noi reagissimo come abbiamo reagito dunque era giusto che noi ricorressimo alla ragione per sconsacrare tutta la merda che i clerico fascisti avevano consacrato dunque era giusto essere laici illuministi progressisti a qualunque patto nel suo intervento Calvino ha rimproverato a Pasolini di essere irrazionalista questo è il punto dice appunto Pasolini ebbene il problema oggi è quello di concepire il proprio modo di essere intellettuali di nuovo Pasolini di rimettere in discussione la propria funzione specialmente là dove essa appare più indiscutibile cioè presupposti di illuminismo di laicità di razionalismo il nuovo potere consumistico e permissivo si è evalso proprio delle nostre conquiste mentali di laici di illuministi di razionalisti di falso illuminismo di falsa razionalità si è evalso delle nostre sconsacrazioni delle nostre sconsacrazioni per liberarsi di un passato che con tutte le sue atroci e idiote consacrazioni non gli serviva più si è la chiesa insomma la religione la fede che per Pasolini è tutt'uno con l'esistenza stessa insomma l'Italia è devastata nel paesaggio che paese meraviglioso era l'Italia sotto il fascismo e dopo comincia così il pezzo su penna no? e quindi è devastato il paesaggio per lui il paesaggio è un fatto fisico lo si vede quando parla di quel meraviglioso anche questo documentario che c'è su Youtube che è una cosa delle techerai sulla città di Orte dove lui dice delle cose incredibili insomma cammina su una strada e dice questa strada con queste pietre questo viottolo è importante come un quadro che so di Piero della Francesca no? dice una cosa simile e quindi il paesaggio è un fatto fisico ma nel fatto fisico ci sono anche i ragazzi cioè quelli che lui amava 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 il proprio sé adesso lo dico in modo banale scusatemi amava il proprio sé passato cioè quel narciso che lui era quel ragazzo quel bambino quell'adolescente quel rapporto con la madre ecco tutte queste cose e non c'era più gli scritti corsari comincia con un discorso sui cappelloni no? e dice odio i capelli lunghi e dice sono stato a Isfran che è una meravigliosa città dell'Iran meravigliosa che è rimasta abbastanza uguale oggi Paolo Solini però non la riconoscerebbe più perché nelle periferie sono nati i palazzoni le cose orrendi e dice i ragazzi dalle belle nuche pulite perché era contro i gay Pasolini era contro i gay contro forse anche contro il gender contro tutti i temi dell'LGBT di oggi non era il problema del rapporto tra maschile e femminile era il problema del maschile di come lui concepiva il maschile io credo che sarebbe assolutamente contro quello che sta avvenendo oggi sia nel linguaggio che nell'atteggiamento anche del politicamente corretto ecco amava i ragazzi quindi il corpo dei ragazzi il corpo dell'Italia e i discorsi culturali di Pasolini a un certo punto si fermano perché lui è morto ma si fermano anche perché chissà come avrebbe potuto declinare questo aspetto al di là dell'illuminismo c'era già stata la scuola di Francoforte che lui aveva letto la dialettica dell'illuminismo insomma c'era già una critica a questo il fatto che lui li vive come un fatto fisico il corpo dei ragazzi è il corpo dell'Italia dice ad Arbasino è come un corpo di serpente c'è un'intervista è come un corpo come si può fare l'amore con questo serpente con questo animale con questa ecco quindi è un fatto estremamente fisico per lui questo è lo scandalo di Pasolini è lo scandalo che va alla radice del suo lavoro insomma ecco in realtà diciamo probabilmente questo libro starebbe in una pagina sola se io riuscisse a scrivere bene tutte queste cose in fila però come sapete spesso non è quello che si dice ma come lo si dice per cui sono passato attraverso le fotografie c'era anche la battaglia che gli ha fatto delle foto poco foto in un'occasione che forse anche quella valeva la pena ma lì c'erano dei problemi di diritti e quindi non mi sono cimentato ecco poi ha inserito anche le immagini nelle sue opere nel senso queste fotografie pensiamo appunto a petrolio con tutti i problemi filologici e appunto poi politici più o meno presunti legati a petrolio ma dentro petrolio ci dovevano essere probabilmente appunto queste fotografie che lui aveva fatto scattare in un gioco di seduzione con il fotografo ma allo stesso tempo anche per usarle poi come materiale per il libro per petrolio sì in realtà questo libro è nato dal fatto che è stata pubblicata dalla John and Levi che è una casa editrice di Monza Milano un libro meraviglioso che secondo me è il libro fotografico più bello dove sono le foto più famose c'è famosa quella foto di Pasolini che hanno riprodotto tante volte oppure le foto di Pasolini mentre scrive la macchina a scrivere con la sua lettera 22 eccetera Dino Pedereali era un giovane fotografo anche questa è una bellissima storia di come ha conosciuto Dino Pedereali c'entra anche Andy Waller io non mi sono allargato anche a questo volevo scrivere un libro più corto ma c'è una storia molto interessante legata a Man Ray la presenza di Waller il testo che Pasolini ha fatto sui travestiti di Waller che erano esposti la prima mostra italiana importante di Andy Waller fatta a Ferrara c'era un testo di Pasolini dove c'è un testo di Pasolini che non capisce la pittura di Waller non capisce neanche il tema di Waller perché Waller certo che è molto più vicino a quello che noi chiamiamo LGBT più eccetera eccetera oggi ecco perché perché la sua omosessualità va verso i ragazzi non va verso diciamo questo scambio questo flusso questo problema dell'identità maschile e femminile che circola attraverso uno scambio continuo per lui è totalmente è totalmente maschile Pederiali aveva chiesto a me di fare la prefazione a questo libro questo libro contiene le famose fotografie di Pasolini nudo che lì sono riprodotte ecco c'è la mostra se la volete vedere a Bologna bellissima Pederiali ha fatto fare delle foto mentre lui è in camera nella sua camera in questa torre di Chia dove è una torre medievale molto antica aveva creato una parte moderna che è tutta vetrata lui stava dietro la vetrata nudo e si è fatto fotografare da da Pederiali e queste foto dovevano io ritengo dovevano andare dentro Petroglio che è il grande libro inconcluso che adesso è tornato a uscire curato da Walter City totalmente diverso dall'edizione che c'era stata fatta dai Naudi è un libro postum molto complicato eccetera e lì c'è questo rapporto c'è il rapporto ancora una volta narcisistico si potrebbe dire Pasolini si fa fotografare e stabilisce un rapporto con il fotografo come se fosse lui stesso che fa le foto tant'è vero che c'è un problema di diritti cioè c'è in corso una causa tale per cui gli eredi di Pasolini ritengono che queste fotografie anche se non c'è stato un acquisto non c'è stato dato del denaro da Pasolini a Pedriali appartengono a Pasolini perché Pasolini le ha commissionate a Pedriali e quindi queste foto non figurano io sono riuscito ad averle perché Pedriali nel frattempo è morto quindi forse non mi ha mai perdonato questo saggio che avevo scritto e il figlio Tristano ha accettato di riprodurle di metterle qui alcune insomma sono molto piccole dovete andarle a vedere a Bologna e soprattutto questo libro ho comprato il libro qua fuori più che altro c'è il libro di il tuo ma c'è il libro della Johan Lévy che è bellissimo secondo me è uno dei libri più stupendi che esistono di Pasolini e gli eredi di Pasolini ritengono che dandomi ragione a questo punto di vista cioè nel senso che effettivamente Pasolini ha usato Pedriali per farsi rappresentare ancora una volta Pasolini è solo con se stesso anche quando è con i ragazzi cioè è con con la propria immagine passata Pelosi che l'ha ucciso forse non da solo è assolutamente identico a Ninetto questi capelli ricci cioè proprio c'è una tipologia ci sono uomini a cui piacciono le brune e molti a cui piacciono le bionde c'è proprio questo elemento anche queste cose non sono mai state sviscerate ci vorrebbe una penna superiore alla mia insomma forse l'unica persona che l'avrebbe potuto fare è Garboli ma Garboli non amava Pasolini è l'unica altra persona che ha capito alcune cose di Pietro Citati aveva capito molte cose di 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 Pasolini ecco era l'arcadia cristiana quella da cui veniva Pasolini era l'arcadia cristiana perché comunque il cattolicesimo è molto presente nell'opera di Pasolini vorrei affrontare nei limiti anche perché ci stiamo avviando la conclusione ma insomma nei limiti umani perché è un tema effettivamente enorme della sopravvivenza della costanza della funzione Pasolini nella letteratura italiana ma direi soprattutto perché forse questo è il punto è più nella cultura italiana nel discorso pubblico italiano che nella letteratura italiana non ci sono scrittori oggi Pasoliniani però Pasolini resta una delle figure più citate citate a proposito a sproposito più più evocate e perché perché Pasolini è così presente e mi sembra come dire non abbia non subito è un titolo se fosse in borsa che non subisce flessioni no no e non e non le ha subite neanche nel centenario ecco se poi poi mi dici che questo io non lo sapevo che parte da lì la mostra come si chiama l'artista l'unico artista si si Tosatti si chiama Tosatti è l'unico che adesso è una piccola star è l'unico del padiglione italiano si dice che comincia da Pasolini bisogna credergli cioè anche qui c'è la doppia faccia da un lato è un marchio di successo un brand di successo perché se tu dici Pasolini tutti è una patente che tu puoi esibire esibire certo beh ma cioè le icone sono questa cosa qui cioè tu te le metti addosso ne scrivi insomma e tu diventi quella cosa lì cioè il funzionamento dell'icona è di tipo religioso cioè è identificativo e al tempo stesso conquista anche l'altro a cui tu ti mostri dicendo ecco io parto da Pasolini questo è un aspetto il secondo aspetto è che le icone possono essere fraintese cioè io credo che Pasolini sia stato molto frainteso ecco molto frainteso anche perché per affrontare Pasolini bisognerebbe essere al livello di Pasolini no? Calvino lo poteva fare non solo perché era un suo coetaneo non solo perché era un grande scrittore ma perché era al suo opposto e quindi poteva affrontare il rovescio della medaglia l'altro quello con la maiuscola questa è una questione e quindi c'è anche un uso strumentale se vogliamo o comunque poi insomma se uno si innamora dei Beatles e dei Rolling Stones e li cita eccetera diventa diventa l'icona ti fa diventare quella cosa lì quindi c'è un'identificazione puoi dire ma beh strumentale c'è la strumentalità c'è l'identificazione c'è altro ancora insomma non scenderanno mai le azioni Pasolini anche se non è letto quasi più io ho provato a dare a mia figlia la quale purtroppo mi ha dovuto seguire in alcune di queste conferenze a Roma del comune e anche l'altro giorno abbiamo aperto la radio ed era lì c'era Bazzocchi che illustrava la mostra di Pasolini a Bologna molto bene e mia figlia ha detto ragazzi di vita è illeggibile e io gli ho detto guarda c'è un podcast bellissimo di Radio 3 dove c'è il romanesco insomma dove la voce perché essendo di Milano anche se io sono di Reggio Emilia non può sentire quelle voci devono essere una voce romana quindi il podcast in questo caso è molto bello però lei mi ha detto no non ce la faccio e neanche l'altro libro l'altro romanzo ma perché come dici tu Pasolini forse appunto è stato prima di tutto e soprattutto produttore di se stesso della sua immagine del suo forse oggi diremmo del suo brand anche in una certa misura perché poi è stato appunto scrittore poeta regista appunto intellettuale pubblico ma come dice anche Walter City adesso in questo podcast che ha fatto anche lui ci sono stati tanti scrittori migliori di lui Moravia era un romanziere migliore di lui Calvino era senz'altro di registi Fellini era un regista migliore di lui Poeti Montale era un poeta migliore di lui eppure nessuno di questi per quanto enormi per quanto grandissimi incarna quella funzione svolge quella funzione che svolge Pasolini oggi sì beh penso che sia questa cosa che ho provato a dire all'inizio malamente cioè che è in conflitto con cioè è la ferita che non si rimargina insomma quindi e poi l'ha toccata così bene insomma questa contraddizione della società italiana fascista poi democristiana e poi dopo il boom economico eccetera al di là del fatto insomma della sottolineatura omosessuale che io metto su questo aspetto ha incarnato le contraddizioni personalmente le ha patite tutti i processi che ha avuto e poi è stato cattolico se possiamo dire così col Vangelo è stato irriverente con la trilogia della vita è stato insopportabile con Salò e persino Teorema che è ancora un film scandaloso il mondo cattolico ha capito che questo questo visitatore che seduce e va a letto con tutta la famiglia compresa la servetta che poi diventa un personaggio diciamo così come una santa toccava delle corde che gli altri non toccano ecco queste corde sono molto profonde sono dentro di lui sono dentro di noi pochi sono capaci di reggerle ecco cioè lui è andato a morire a Ostia sulla sua macchina come gli hanno sempre l'hanno sempre detto è macchina da ricchi questa questa GT questa questa Alfa Romeo di un uomo arrivato era lì che sia per per il complotto dei fascisti o dei neofascisti o perché c'era un magnaccio oppure c'era un gruppo di ragazzi di vita in un posto orrendo non so se siete mai andati e quindi esprime tutta la contraddizione della nostra società non so come dirlo è proprio banale quello che dico però lo esprime in modo radicale profondo e l'ha vissuto fino alla morte in croce come si dovrebbe dire ecco lasciando invitandovi se avete domande a farle ti davo un'ultima domanda un ultimo spunto appunto legato alla morte una morte molto discussa ancora oggi incredibilmente discussa sui motivi che portavano all'uccisione di Pasolini in fondo se vuoi Pasolini è anche l'unico scrittore uno dei pochi scrittori italiani come dire di cui si sono appropriati anche tanto i giornalisti tanto i politici è proprio ha svolto una funzione non solo nel campo letterario come si dice ma nel campo politico nel campo della storia italiana allora ci sono due grandi personaggi della nostra storia uno è Pasolini e l'altro è Aldo Moro sono due morti misteriose forse più semplici di quello che immaginiamo ma sicuramente nel nostro immaginario sono diciamo i due corpi insepolti forse con Moro si è cercato di fare i conti ma non fino in fondo basta andare a vedere lo spettacolo di Gifuni dedicato a Moro e vi renderete conto che è un corpo ancora insepolto sono anche due corpi massacrati tra l'altro l'Espresso aveva pubblicato sia il corpo di Pasolini su cui era passata la macchina sia il corpo di Moro nell'autopsia Natalia Aspisi aveva detto a un bel culo aveva scritto parlando di Moro sono due corpi insepolti della nostra storia che esprimono due contraddizioni incredibili incredibili ecco io mi sono occupato anche di ho scritto una cosa sulla foto di Moro ecco sull'aspetto diciamo altra cosa che a me sorprendeva che l'ho riscritta quattro volte ho rifatto questo libro quattro volte aggiungendo sulla foto di Moro Sciascia che per me è stato un punto di riferimento come tanti della mia generazione insomma io sono nato a metà degli anni 50 aveva preso le lettere di Moro che sono incredibili anche quello anche il memoriale di cui si è occupato Gotor Miguel Gotor e c'erano le fotografie fatte dai brigatisti le famose Polaroid ecco con la Repubblica con la Repubblica Polaroid in bianco e nero mentre tutti pensavano che le Polaroid fossero a colore esistevano anche quelle in bianco e nero ecco sono i due grandi corpi insepolti sono due immaginari opposti e contrari poi Pasolini seppure occupato di Moro ha detto ha scritto il meno coinvolto nel marciume che è stata la storia italiana diciamo per il fatto che stavamo sotto la Nato che c'era la divisione tra Est e Ovest c'era la guerra fredda eccetera ecco restano lì restano lì e non possono essere sepolti perché va bene così cioè nel senso che sono come due funzioni la funzione trattino Moro la funzione trattino Pasolini perché funzionano funzionano ecco sono come due elementi linguistici e culturali che alimentano un immaginario e dietro a questo immaginario ci sono dei problemi veri che non possiamo neppure negare e qual è la funzione la funzione Moro la funzione Moro è quella del del grande complotto cioè del del partito comunista che non riesce ad andare al potere ecco il cambiamento della sinistra il cambiamento del paese quella quella che è la parte come Pasolini diceva del PC è la parte più sana del paese che è scomparsa che non c'è più che non è più rappresentata ecco è la grande marmellata dentro cui stiamo anche oggi insomma basta vedere che c'è un ex democristiano presidente del consiglio al potere ci sono dei partiti tranne un partito diciamo di ispirazione fascista o neofascista che nasce dalle ceneri del movimento sociale c'è un partito populista che sono i 5 stelle c'è un partito di ispirazione inizialmente antifascista con bossi poi è diventato un partito sovranista è un partito non più del nord ma un partito cioè siamo dentro un gran casino dentro una situazione Moro era il progetto di un cambiamento dell'Italia ce l'avrebbe fatta avrebbe funzionato avrebbe anestetizzato come aveva fatto con i socialisti portandoli al governo con i comunisti non lo possiamo più sapere è morto Berlinguer è morto Moro con tutte le cose che ci sono state sono state le brigate rosse gli anni settanta eccetera quindi resta anche quello una funzione problematica della nostra storia sembra che la nostra storia da più di un secolo da più di un secolo da 150 anni dall'unità d'Italia non abbia trovato ancora un compimento Pasolini lì dentro racconta tante cose ancora Grazie ringrazio tutti ringrazio Marco Berpoliti e vi auguro una buona serata ringrazio